Nonostante la giunta regionale della campagna Direzione Generale per la tutela della salute con nota PG 2021-01-58-516 del 23 marzo 2021 abbia prorogato al 30 aprile 2021 le esenzioni per patologia cronica e malattia rara e condizioni di reddito, molti medici di base del territorio non visualizzano la proroga scaduta al 31 marzo 2021 e invitano i pazienti a muoversi di casa e a richiedere l'esenzione presso l'ASL e i CAF convenzionati. Una situazione non proprio delle migliori se si pensa al periodo delicato che stiamo attraversando e che i pazienti in questione sono per lo più affetti da patologie croniche e malattie rare e quindi dovrebbero essere invitati a muoversi in casi eccezionali. Il testo della delibera regionale è chiaro. Come è noto, la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Si comunica pertanto, fanno sapere dall'ente regionale, che sono ulteriormente prorogati fino al 30 aprile 2021 al fine di ridurre le occasioni di affollamento per accesso degli utenti agli sportelli dei distritti dell'ASL finalizzate al rinnovo delle esenzioni. Fino a tale data conservano validità le certificazioni e le autocertificazioni presentate per l'anno 2019 in linea con i provvedimenti di contrasto alla diffusione del covid-19 adottati dalle autorità competenti che vietano gli assembramenti. Si chiede infine di consentire l'acquisizione delle autocertificazioni e delle richieste di chiarimento attraverso le modalità già attivate. Il problema che viene riscontrato attualmente dai cittadini è che solo il 10% dei medici di medicina generale visualizza la proroga, il resto purtroppo probabilmente non ha aggiornato il programma e in automatico sospende l'esenzione.